appassionati di ritrovamenti bentornati con lo stego oggi vi faccio vedere questo veicolo appena percettibile tra la folta vegetazione non storico ma comunque di interesse quantomeno per la singolarità si tratta di un camioncino nissan vedete per la precisione si tratta è un cab star 110 giace qui abbandonato in questo appezzamento agricolo ed è davvero un peccato perché è un mezzo ancora moderno che potrebbe essere tranquillamente usato vedete col suo bel cassone anche parecchio lungo mi sembra quasi 4 metri di cassone questi mezzi mi sono sempre piaciuti particolarmente guardate il lato sinistro non ci si può proprio avvicinare per la presenza di rovi e quant'altro mezzo che ha un motore diesel da 3.000 di cilindrata 106 cavalli mi sembra che c'era anche la versione a 6 cilindri guardate il contenuto del cassone una stratificazione di fogliame secco incredibile pazzesca guardate qui qui si vede il tavolato eccolo guardate dove ho la mano questo è il tavolato del cassone ci sarà uno spessore di almeno almeno tre centimetri quattro di fogliame veramente incredibile mezzo mezzo così abbandonato sarebbe estremamente utile per chiunque la cabina di guida è chiusa e quindi non posso accedere ma credo che appoggiando così al finestrino si possa comunque percepire lo stato degli interni tra l'altro un camioncino tre posti e quindi valido anche per il trasporto di persone diciamo date la presenza dei rovi credibile capstar 110 come al solito a me piange il cuore vedere mezzi di questo genere abbandonati perché come ho detto prima potrebbero essere ancora funzionali e quindi bisognerebbe recuperarli con queste ultime immagini vi ringrazio e vi saluto vi do appuntamento al mio prossimo video ciao a tutti dallo stego